Aurora tropea di uomini e donne, chi è la dama Trono Over, età, di dov'è, foto, Instagram, il tumore. Continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori uomini e donne, il dating show più amato e seguito di sempre di Canale 5. Protagonisti dame e cavalieri del Trono Over, ma anche giovani tronisti, tutti. Indipendentemente dall'età, sono lì alla ricerca dell'amore. E ha deciso di rimettersi in gioco. Ancora una volta, una ex conoscenza di uomini e donne, Aurora tropea. Che è ritornata in studio e che ha intenzione di innamorarsi sul serio. Mettendo da parte le discussioni con Gimma e l'opinionista Tina. Aurora tropea è stata senza ombra di dubbio una protagonista di Uomini e Donne nel 2021. Ma, proprio in quel anno, tra accusi e polemiche, aveva lasciato la trasmissione in lacrime senza aver trovato l'amore vero. Quello con la maiuscola. Ora, a distanza di tempo, è pronta a rimettersi in gioco ed è tornata nello studio del dating show di Maria De Filippi. Ho sentito il forte bisogno di rimettermi in gioco, a Uomini e Donne e il mio percorso era come in sospeso. Ora sarà un'Aurora più serena, soprattutto voglio che passi davvero la persona che sono, una donna sempre sorridente. Semplice, che ha imparato a farsi scivolare addosso le cose ha raccontato la dama al magazine dedicato in retroscena del programma. Aurora ritorna a Uomini e Donne, ma in questo periodo di assenza ha dovuto fare i conti con un tumore. L'ho scoperto per caso. Ho perso una mia carissima zia, mia madre ha fatto un incidente quasi mortale dal quale miracolosamente è uscita in denne. Io ho scoperto di avere un tumore quasi per caso ha raccontato. E al magazine ha detto, mia cugina, a cui sono molto legata, si è tolta una cisti sul sopracciglio e hanno scoperto che era in realtà un tumore molto aggressivo. Così ho deciso anche io di farmi controllare. Ho fatto una mappatura dei nei e di conseguenza me ne hanno tolto uno. Con l'istologico è venuto fuori che si trattava di un tumore maligno, che si era ramificato. Fortunatamente, è riuscita a vincere quella battaglia. E ora è rinata, pronta per innamorarsi. E per davvero. Aurora Tropea, che vive vicino Viterbo, è molto seguita su Instagram. Con l'accountetta Aurora Tropea vanta oltre 30.000 followers. Di lei, inoltre, sappiamo che ha un negozio, che ama gli animali e come sport è appassionata di basket e golf. Aurora è anche una motociclista e ama viaggiare in solitaria. Con il vento che respetti noi capelli. La show-uri buite, cum rup capete, lumea dà din capă rupte. Tobele bat cu inima deodată, nu le oprescă, nu s-a datat.